L'essun desco e il numero 39 della Ush di Ladins. Il Sfoise Verge con la prima edizione della Ladinia Cup Memorial Gino Comelli, con il report della Gare Seda, i risultati e la premiazione che va in atto della piatta di attualità. Sempre tra la piatta di un fuori è l'esperienza di un gruppo di studenti che ha fatto un camp di giacciologia. A morte dell'attualità, truò una lunga intervista all'architetto fasciano Alberto Winterle su un progetto di ristrutturazione e conservazione dei fabbricati pubblici, rifugiati e autori. Tacconite con la piatta di fascia che severge con la neva che reverda l'impianto Portamonte di Moina e la considerazione del Presidente. Sottitele la proponentes del Servizio Sozio Assistenziale del Comun General di Fascia. Con Michela Marangoni dell'Associazione Antermoa facciano un bilancio sull'endrezza delle manifestazioni. e a perdere la festa indrezza del Club Pietrone. Silly Weiss ne conta di cosa si amere face a pan su un tamion. A perdere la festa della Coppia e Sapozza. E questa settimana lenta la rubrica delle cartoline da fascia. Ricordiamo Vito Weiss, stato per quarantena del soccorso da Montt. E la rubrica di retrace in Biancheneiger è in tasse il gustico della storia della comunità. Dalla Val Gherdena è una piatta in tria dedicata all'artista da Ortisei Adolf Vallazza. E viene dato conto della festa con il gruppo di musica più conosciuto della Val. Da Ampets viene scritto nel corso dell'engazza aperto a Duce indrezza dall'Istituto Cesar de San e l'Unione di Ladins. E da Fodom viene metto all'ustre il riconoscimento al formale della Melga da Renac e la frada del coro Fodom con un coro del Galles. Dalla piatta della Val Badia è venuta fuori l'esperienza del volontariato della Tanzania di Noemi da Punt e Mattias Crazzolara. Venmo presentare l'album Nef delle Sganes, omaggio al Paes della Val. E troniamo la festa per il Sto da Fec della Ila con la benedizione della neve autoscella. Sulla piatta del sport, la gara seda di corsa su un bufauro indrezza dai notti. E che la riserva di Sto da Fec della Cianacei. Non c'è da fare niente che stouta per il fassabalon sul camp di cottura. Nel momento che si aspetta la Nef, l'associazione sportiva da Sfora Sia Neva Mondures. Veniamo fuori questa edizione con la piatta per i più piccoli dedicata all'Uton. Sulla uscita di Ladins, ogni vendere potete trovare la neve da tutta la Ladinia. Per info e abbonamenti potete usare la redazione di fascia di casa della Monieria a Saint-Jean. Telefon 0462 164545 Mail Fascia-laus.it Il Sfor interladin lente online su laus.it o te la bottegas des Sfores de tutta la Valle.